Ricorre dopo domani, l'11 novembre, il giorno di San Martino, la tradizionale festa legata all'agricoltura, perché proprio in questo periodo si concludono le fatiche nei campi e per gli operai i contratti di lavoro. Periodo che corrisponde di fatto alla fine dell'annata agraria, che sarà ricordata principalmente per lo straordinario andamento climatico, caratterizzato da una perdurante assenza di piogge, che ha sottoposto ad un pesante stress tutte le coltivazioni. Basta gettare uno sguardo ai campi di grano, che sta spuntando a macchia di leopardo. Basta guardare e scorrere le acque del fiume Po, fondamentale per l'ecosistema della pianura padana, dove si concentra il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento, il cui livello è ben al di sotto dei due metri rispetto allo zero idrometrico, con la siccità che è tornata ai livelli dell'estate appena passata. Nel complesso l'annata agraria 2022 ha registrato una sensibile riduzione della produzione di mais, frattive e foraggere. Hanno tenuto meglio le produzioni cerealicole invernali, quali grano e orzo. Leggermente in calo i raccolti di frutta, nocciole e uva, che hanno fatto registrare livelli quantitativi buoni, con punte d'eccellenza. È questa la fotografia, fra luce e ombre, fornita a livello piemontese da Confagricoltura, che ha tracciato, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla ricorrenza della cosiddetta estate di San Martino, un bilancio tutto sommato positivo, ma con un futuro incerto per quanto riguarda la tenuta dei prezzi agricoli all'origine. L'aumento dei costi energetici preoccupa infatti le imprese, soprattutto quelle zootecniche. Non rincuora pure il dato sulle aziende agricole, che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare una contrazione delle attività di circa il 13%, passando da 46.667 del 2018 a 40.866 di quest'anno. Crescono invece gli addetti agricoli, che a giugno di quest'anno erano 81.000, con un netto incremento rispetto ai 63.000 medi del 2021. In linea con l'andamento regionale, anche l'annata agraria in provincia di Alessandria. In alcuni casi, come per il settore vitivinicolo, ha dichiarato Paola Maria Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria, la qualità dei prodotti ha superito quelle che sono state le minori quantità dei raccolti. Per il territorio alessandrino, la produzione, in riferimento all'annata precedente, è stata del meno 15% per il pomodoro, è arrivata a meno 20% nel tortuonese. Sul fronte cereali, il grano ha chiuso tra il meno 10% e il meno 15%, mais a meno 40%, orzo a meno 20%, girasole a meno 25%. E poi c'è il comparto della zootecnia, meno 5% in generale, con un meno 10% registrato sui bovini piemontesi e un meno 5% sui suini, senza contare gli abbattimenti per l'emergenza PSA.